Allora amici e amici carissimi, ben tornati, ben ritrovati, benvenuti a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi sulla sana dottrina cattolica che è giunto alla sesta puntata all'interno del quale stiamo trattando in questo momento il primo comandamento il primo comandamento è un mare sconfinato perché abbiamo visto quando l'abbiamo introdotto che è uno dei comandamenti non troppo ben identificati, a volte un po' poco considerati sembra quasi che non esista, non si ha sempre chiaro in coscienza salvo le cose più macroscopiche quali sono i peccati contro il primo comandamento eppure ce ne sono veramente tanti quindi diciamo che questo costituirà un pochino la piattaforma per poi spaziare un po' per varie tematiche perché approfondendo bene il primo comandamento si aprono vari orizzonti per esempio presumo che dopo le cose che ci diremo questa sera sarà poi il caso di fare un escursus approfondito diciamo da un punto di vista dottrinale sui sacramenti della penitenza e dell'eucaristia perché la volta scorsa abbiamo visto il peccato di idolatria quindi abbiamo parlato degli idoli del mondo le 3s ricorderemo il sesso soldi e successo poi nella variante delle 3p piacere possedere e potere e abbiamo soprattutto visto la sottile insidia dell'idolatria anche delle persone diciamo così in qualche modo virgolettata spirituali ecco delle persone che ci aiutano nel nostro cammino e tutte quante le persone spirituali devono imparare come dire da San Giovanni Battista lui deve crescere e io diminuire devono impararle anche le persone che seguono le persone spirituali e soprattutto abbiamo visto che le persone spirituali devono farlo mettere bene in testa a chi in qualche modo tra virgolette le segue avendo sempre un modello San Giovanni Battista perché è vero che a volte le persone idolatria non si attaccano ma è anche vero che certi comportamenti a volte sono provocati a volte sono indotti a volte sono stimolati a volte sono accettati a volte sono tollerati nessuno di questi comportamenti deve starci in chi è un autentico come dire ministro, servo del Signore perché tutti quanti noi siamo meno che nulla e Dio è molto molto offeso da questo peccato non sottovalutiamo non pensiamoci a beh sì ho un rapporto un po' troppo così con quella persona insomma però tutto sommato c'è di peggio no? a quello che ho potuto imparare oltre che conoscere oltre che conoscere Dio è molto offeso da questo peccato quindi bisogna perché Dio non cede ad altri la sua gloria si legge nella Sacra Scrittura io sono il Signore non darò ad altri la la mia gloria e quindi attenzione 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 allora un altro grande ambito diciamo così di attenzione che apre la tematica del primo comandamento è che se io torniamo all'inizio io sono il Signore tuo Dio al Signore a Dio è dovuto l'abbiamo visto il culto di Latria abbiamo concluso così la volta scorsa quindi il culto di Latria cioè l'adorazione non va dato a un eidolon d'accordo quindi a un simulacro a una statua d'accordo una statua reale oppure una statua cioè chi ho messo nel piedistallo del mio cuore al posto di Dio questo è l'idolo ma va dato al Signore e al Signore il culto va dato e come? e il culto va dato interiormente ed esteriormente e il culto di Latria significa adorare adorare e che significa adorare? sappiamo che l'adorazione diciamo così per noi che abbiamo la grazia inestimabile di essere non solo cristiani ma anche cattolici perché quindi avere la la pienezza per grazia di Dio non sono certamente per merito nostro insomma sia della conoscenza della verità sia della la pienezza dei mezzi di grazia e la retta conoscenza e dottrina sui mezzi di grazia oltre che la loro presenza noi ci abbiamo l'eucharistia la chiesa cattolica custodisce l'eucharistia diciamo che l'unico luogo diciamo così esterno la chiesa cattolica in cui si custodisce con certezza l'eucharistia è la chiesa ortodossa che non ha rotto la successione apostolica così stava anche la chiesa anglicana ecco ma come ebbe avuto modo di dire San Giovanni Paolo II insomma con la missione al sacerdozio delle donne la cosa si complica ecco semplicemente perché questo può non piacere a qualcuno insomma a chi pensa che la chiesa debba aggiornarsi alle evoluzioni culturali del tempo ma come spiegò San Giovanni Paolo II qui non è un problema di promozione del ruolo della donna o meno d'accordo la chiesa non ha il potere di ordinare una essere di sesso femminile prete quindi quello che San Giovanni Paolo II spiegò è questo così sarà cioè facciamo un'ipotesi per assurdo cioè non succederà mai io credo una chiesa cattolica ma se tutto questo succedere sarebbe la fine perché se un vescovo impone le mani sulla testa a una donna battezzata è battezzata come lo sono io quella donna prete non ci diventa d'accordo perché per volontà di Dio il soggetto che deve ricevere questo sacramento è un battezzato di sesso maschile ecco la piccolezza anche degli uomini di chiesa anche delle autorità della chiesa sapete che il titolo più grande che si può dare il pontefice il più eccellente è il vicario di Cristo ma quello proprio che esplica il servo dei servi di Dio un vescovo è un servo io sono un servo il papa è un servo noi serviamo tutti quanti il signore nessuno di noi è più grande del signore mi raccomando insomma siamo tutti quanti al servizio e quindi non esiste nessuna autorità che può scavalcare non è che la chiesa potrebbe inventarsi un giorno d'accordo ai sacramenti sono 8 i sacramenti sono 7 d'accordo oppure l'eucharistia la celebriamo con il pan di spagna e la coca cola l'eucharistia si celebra col pane azimo e col vino d'accordo non è che cioè non è che un papa potrebbe dire vabbè da domani il papa il papa è la massima autorità no quindi il papa fa una legge e quella legge è realtà sì certamente sì purché la legge sia come dire conforme al diritto divino cioè un papa non avrebbe il potere ma non è che dico questa cosa come dire temendo di mancare alla dovuta differenza che si debba al munus petrino cioè un papa non avrebbe mai la facoltà di dire i sacramenti sono 8 o l'eucharistia la facciamo con il pan di spagna e la coca cola anziché col pane e col vino non lo potrebbe fare cioè perché l'ottavo sacramento sarebbe nulla se anche venisse inventato e celebrato e l'eucharistia celebrata col pan di spagna la coca cola voglia pronunciarci le parole della consagrazione ma quello corpo di cristo non ci diventa il sangue di cristo non ci diventa così se tu ordini prete una donna quella prete non ci diventa non è una cosa che capito cioè non si tratta di progresso di non progresso cioè chi concepisce il progresso femminile alla femminista cioè il progresso emancipazione della donna uguale assunzione progressiva di tutte quante le facoltà che un tempo erano soltanto riservate agli uomini fino a quando non c'è questo livellamento assoluto questa interscambiabilità assoluta non c'è una vera paridignità che questo sia la emancipazione la promozione della donna è tutta la dimostrare d'accordo questo nella chiesa non può proprio essere d'accordo non potrà mai essere in questo modo d'accordo non è possibile è come chi nella chiesa senza chiamare in causa le nostre care amiche sorelle madri donne come i laici che concepiscono la promozione del laicato come la progressiva come dire assunzioni di compiti un tempo solo criticali allora un tempo la messa se la celebrava da sola tutto il prete adesso le letture le possono fare i laici una volta l'ostia la toccava soltanto il prete adesso ci sono i ministri straordinari quindi a chiappa a chiappa a chiappa e se io sono ministro straordinario io sono un grande laico perché chi lo sa che cosa sto facendo di particolare si capisce che ha il senso di quello che sto dicendo cioè un grande laico essere un grande laico non significa come dire riuscire a fare qualche cosa che una volta facevano soltanto i prete essere un grande laico vuol dire essere un grande laico cioè un santo laico che viva appieno la sua realtà della secolarità lì dove il signore lo chiama a vivere in famiglia o da solo nel lavoro eccetera eccetera comunque non è questo l'argomento di questa sera questa piccola digressione perché dicevo l'eucaristia torniamo dove siamo partiti sta nella chiesa cattolica sta nella chiesa ortodossa stava nella chiesa anglicana dovunque fino a quando non sono state ordinate le donne prete perché cosa succede adesso nella chiesa anglicana le donne prete ci stanno ma se una donna prete celebra la messa l'eucaristia l'eucaristia non c'è d'accordo sono cose come dire indimostrabili ma non è neanche dimostrabile che l'eucaristia c'è quando la messa la celebro io capite no tutte le cose della fede sono per antonomasia indimostrabili d'accordo ci vorrebbe qualcuno che ci abbia i raggi X però mentre se la celebro io la messa io o qualunque prete regolarmente ordinato si deve presumere che quella sostanza diventi corpo e sangue di Cristo purché io usi le parole della consagrazione prescritte dalla chiesa e celebri la messa con l'intenzione di celebrarle basta se celebro una donna quell'eucaristia non ci diventa quindi nella chiesa in cui si trovasse ad ufficiare quella donna dentro il tabernacolo non c'è l'eucaristia ecco perché diventa diventa molto se invece c'è qualche sacerdote ortodosso che è anglicano che è stato ordinato da un vescovo anglicano l'eucaristia c'è perché il vescovo anglicano di per sé non ha rotto la successione apostolica solo che adesso non mi ricordo adesso che non sono molto aggiornato su queste cose vorrei parlare con qualche amico canonista non so se addirittura nella chiesa anglicana abbiano anche consentito le donne vescovo a quel caso diventa veramente un macello perché la donna vescova non ci diventa e se quella donna vescova ordina un prete maschio quello non diventa prete non perché non può diventarci ma perché la donna vescova non ha il potere di dargli il sacramento dell'ordine quindi capite che barahonda che diventa comunque non volevo parlare di queste cose stiamo parlando dell'adorazione quindi è una digressione diciamo causata dall'eucaristia per farci rendere anche conto che è una grazia inestimabile per noi poter avere nella chiesa cattolica l'eucaristia e l'adorazione proprio viaggia verso l'eucaristia e quindi verso il luogo sacro dove l'eucaristia è custodita che sono le nostre chiese quindi qui si impone come dire un subito come dire mettere un pochino le mani avanti perché il culto che noi dobbiamo a Dio che è un fatto anzitutto del cuore come adesso vedremo subito trova però nella eucaristia che non è un simbolo io quando entro in una chiesa anche se il tabernacolo è chiuso io entro davanti alla presenza vera reale sostanziale di nostro Signore Gesù Cristo un cattolico che si chiami cattolico che non ha interiorizzato un rapporto personale con l'eucaristia che non trascorre del tempo davanti a Gesù eucaristico non lo desidera ma magari anche semplicemente per entrare io ho conosciuto persone carinissime che passano davanti alla chiesa segno della croce magari entrano non hanno tanto tempo però aprono la porta della chiesa vanno davanti al tabernacolo fanno la genuflessione si fanno il segno della croce poi fanno anche con la manina fanno ciao Gesù magari dando a ciao sapete che ciao è un termine che gli si può dare il significato di un acronimo quindi c-i-a-o facciamo che sia con infinito amore ovunque d'accordo quindi ciao Gesù significa con infinito amore ovunque gli mandano un bacetto come come si fa con tra fidanzati quando si saluta da lontano ma Gesù per quanto mi riguarda ha un sussulto di gioia che salta per aria nel tabernacolo sarà felicissimo di una cosa di questo genere è una cosa che quanto tempo ti toglie 30 secondi che apri la porta della chiesa fai una genuflessione ciao ciao e lanci un bacetto a Gesù e gli dici ciao quanto si vuole quindi non è dici sai ma io l'eucharistia non c'ho tempo non c'ho qua c'ho un sacco di impicci per carità nessuno deve fare i salti mortali ma non sempre occorre fare tanto d'accordo e non tutti possono fare tanto ma occorre fare bene d'accordo noi cioè proviamo un attimo a a fare una follia no mettiamoci nei panni di nostro signore Gesù Cristo cioè proviamo a dire ma io sono Dio d'accordo e me faccio piccolo piccolo me sto rinchiuso dentro una scatoletta di ferro insomma piantata dentro un muro perché per noi perché non sta lì mica 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 per se stesso ma sta lì per noi allora che tipo di rapporto ci abbiamo noi d'accordo qui siamo proprio con l'eucharistia siamo proprio al cuore della fede divina e cattolica proprio al cuore cioè il nostro rapporto con l'eucharistia è tutto d'accordo è proprio cioè si gioca tutto qua ci giochiamo tutto di tutto e di più quindi l'eucharistia ci dà anche un'occasione straordinaria di esercitare il nostro senso interiore di adorazione che cos'è l'adorazione etimologicamente adorazione l'ho detto tante volte lo troverete anche in altre catechesi anche in altre nomerie adorazione ha un'etimologia che viene chiaramente dal latino che comporta tre termini il termine ad che esprime una particella che in latino esprime moto al luogo cioè tendere verso qualcosa poi c'è os oris adorazione os oris significa bocca in latino e axio che significa azione allora ci sono due possibilità sono tutte due vere quindi sarebbe l'azione della bocca a d'accordo quindi l'azione della bocca a che significa significa che la bocca quando adora si prostra e parte verso terra voi sapete che un gesto grande di adorazione estremo di adorazione che era praticato in certi monasteri era che quando si entrava in chiesa faceva il segno della croce e poi si baciava la terra quel gesto che è un gesto estremo quindi vuol dire non soltanto mi metto in ginocchio ma mi prostro quindi giungo a abbassare il capo fino a terra e bacio la terra come se volessi baciare i piedi di Gesù quindi il gesto proprio estremo d'accordo cosa facevano quelli che adoravano Gesù quando lo incontravano i grandi adoratori si prostravano e gli baciavano i piedi è un gesto proprio estremo questo qui quindi portare la bocca ma anche azione alla bocca quindi portare alla bocca qui bisogna fare un gesto che chi sentirà il podcast non lo vede chi vede il video magari lo vede perché portare la bocca è portare la mano alla bocca cioè mettere la mano davanti la bocca noi ci mettiamo la mano davanti la bocca non soltanto quando tossiamo quando sbadigliamo insomma oggi che tossiamo ci mettiamo la mano davanti la bocca ma ci mettiamo la mano davanti la bocca anche quando dobbiamo esprimere lo stupore che facciamo mamma mia ci mettiamo la mano davanti la bocca quindi c'è un'espressione di un enorme come dire stupore per il senso della grandezza di qualche cosa di immenso che ci sta dinanzi ecco questa è una espressione plastica diciamo così che esprime molto bene il senso dell'adorazione cristiana cioè io sto davanti a dio ora attenzione che l'adorazione come dice san paolo non è cosa riservata soltanto al tempio anche se come vedremo il tempio ci educa all'adorazione continua Gesù dice voglio che adorate il padre in spirito e verità non sul monte carizzino a gerusalemme san paolo scrive adorate cristo nei vostri cuori pronti sempre a rendere ragione della speranza che è in voi l'adorazione è quel vivere diciamo così sotto gli occhi di dio riconoscendolo e avendolo sempre presente appunto come dio come signore a cui io desidero incessantemente ininterrottamente conformare il mio pensiero il mio agire le mie parole no facciamo subito un esempio rossolano una persona che dice una volgarità ma sta adorando dio nel nostro nel proprio cuore io invito sempre a farsi domande d'accordo perché quando ci facciamo le buone domande davanti a noi stessi cioè una persona che dice una volgarità ma questa volgarità tu potresti dirla sotto gli occhi di dio cioè se tu c'avessi Gesù Cristo in persona davanti che ti sta guardando tu diresti una volgarità sì o no penso che sia una domanda retorica no ma noi dobbiamo ricordare che dio non è che diventa cieco o sordo cioè noi siamo presenti a dio ininterrottamente quindi nella misura in cui io acquisisco lo spirito dell'adorazione Gesù dice adorate in spirito e verità verità significa che si adora soltanto colui che deve essere adorato cioè io adoro dio e nessun altro al di fuori di lui questo l'abbiamo visto parlando di idolatria ma adorare in spirito che vuol dire che il mio spirito è sempre in atto di adorazione ha lo spirito di adorazione che trova chiaramente quando mi trovo alla presenza per antonomasia dell'altissimo noi abbiamo la grazia di poterlo vivere nelle nostre chiese dove l'altissimo c'è nella persona di Gesù presente nell'eucharistia lì come dire è il clou ma non è che esco dal tempio e è tutto finito no perché l'adorazione è qualche cosa che pervade completamente tutta la vita di un credente se io sto per fare una scelta di vita importante e mi confronto e cerco di discernere qual è la volontà di Dio io lo sto adorando d'accordo perché sto dicendo senti signore mio io sono poveraccio non capisco niente non mi fido tanto delle mie ristrette vedute o della mia presunta funzionante intelligenza o della mia piccola volontà dammi una mano fammi capire cosa vuoi d'accordo questo è dare a Dio l'adorazione che gli è dovuto e dare a Dio la gloria che gli è dovuto perché è veramente così se tutti gli uomini facessero questo la terra sarebbe un giardino sarebbe un posto meraviglioso non purtroppo il regno del regno degli orrori come molte volte purtroppo la trasformiamo no quindi l'adorazione è dare a Dio il culto che gli è dovuto quindi questo primato che gli riconosco nel cuore viene poi espresso con degli atti propri qual è l'atto diciamo così religioso che esprime l'adorazione per antonomasia e il sacrificio questo è proprio in tutte anche nelle religioni pagane che facevano anche delle avverrazioni con i sacrifici cioè a Dio si dà qualche cosa quindi si sacrifica qualcosa per lui qualcosa di importante qualcosa a cui io tengo con quale fine non soltanto per impetrare le sue grazie per proviziare la sua misericordia eccetera eccetera ma anche soprattutto per dirgli tu questo ti meriti cioè tu in quanto mio Dio che merita la mia adorazione a te ti si deve tutto esempio chi è il martire il martire è colui che offre a Dio in sacrificio cosa? se stesso cosa ha fatto Gesù sulla croce? cosa diciamo nella missa? si è offerto in sacrificio cioè Gesù è il sacrificio per antonomasia ma cosa dice la preghiera e caristica terza? il sacerdote dopo la consegnazione cosa dice a un certo punto? egli faccia di noi un sacrificio vivente a te gradito riprendendo le parole di San Paolo vi esorto io ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente santo e gradito a Dio quindi noi a Dio offriamo cosa? per esempio la Santa Messa è il sacrificio dei sacrifici perché Dio il sacrificio sarebbe diciamo così costruito da se stesso perché l'unico sacrificio degno di Dio è qualche cosa che in qualche modo lo lo eguagli lo parifichi quindi solo il sacrificio di un uomo Dio è degno veramente di Dio tutte le altre nostre piccole cose sono tutte piccole piccole sciocchezze eppure anche nella Santa Messa pensiamo all'offertorio adesso sappiamo che nell'allenessa riformata dopo il concilio col messaggio di Paolo VI è stato molto semplificato però rimane all'offertorio e rimane all'offertorio e c'è anche quella frase pregate fratelli tra poco e sorelle con la nuova traduzione che il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente che significa? significa che Gesù ha voluto che la Santa Messa dove si rinnova il suo sacrificio non avvenisse una sorta di consacrazione dal nulla ma venissero transustanziate il pane e il vino come si dice nell'offertorio che sono frutto della terra e del lavoro dell'uomo cioè qualche cosa che viene da noi e che io presento a Dio ed è lui che lo accoglie come mio piccolo dono e lo trasforma nel dono dei doni che è lui perché possa essere offerto per la nostra salvezza quindi per questo che la Santa Messa l'Otrina Cattolica è il sacrificio di Cristo e della Chiesa che formano una cosa sola no? sto toccando tantissimi tantissimi quindi il sacrificio il sacrificio evidentemente il sacrificio non ha soltanto un aspetto cultuale quindi si va nel luogo quindi nel tempio e si offre a Dio il sacrificio che gli è dovuto ma ha anche un significato esistenziale che appunto tutti quanti gli autori del Nuovo Testamento e quella parte della preghiera eucaristica 3 che vi ho appena citato richiamano no? qual è? cosa ha offerto Gesù se stesso? cosa offro a Dio io? me stesso me stesso allora osservare bene il primo comandamento quindi rendere a Dio il culto che gli ha dovuto adorare spirito e verità uh capito significa imparare a vivere alla presenza di Dio e tutto quello che sono che faccio dovrebbe essere un incessante incenso che sale all'altissimo quindi offerta allora tornevo all'esempio di prima se io dico una volgarità ma posso offrire a Dio una volgarità? signore ti offro questa questa volgarità che ho detto posso dirgli una cosa di questo genere oppure chiacchiero e taglio e cuscio e parlo male di Dizio che ho e Sempronio posso dire che queste parole sono state offerte a Dio o sono state offerte a Satana scusate se ogni tanto ogni tanto mi prende insomma di riusare un linguaggio un po' un po' un po' diretto un po' un po' tagliente no? perché ogni tanto comunque comunque fa bene no? allora le nostre parole le nostre azioni a chi sono offerte? il peccato che cos'è se uno ci pensa bene? il peccato è un'offerta fatta a Satana purtroppo se uno ci pensa posso io offrire un peccato a Dio che lo offende che è trasgressione della sua legge e quell'azione a chi è offerta? se non è offerta a Dio a chi è offerta? pensiamo no? ecco quindi questo è il top questo è la perfezione dell'attempimento del primo comandamento e del dovere di adorare il Signore quindi ecco poi che però questo dovere di adorare il Signore trova delle espressioni diciamo per antonomasia nel luogo sacro nella casa del Signore nella chiesa ed ecco qui cominciano diciamo così le dolenti note perché le trasgressioni dirette al dovere di rendere a Dio il culto che gli ha dovuto anche esteriore come adesso vedremo dal luogo al gravissimo peccato della irriverenza allora e quali sono le irriverenze principali? adesso qui dovremmo capirlo no? esteriormente il gesto dell'adorazione si esprime come con lo stare in ginocchiati col piegare le ginocchia si legge nell'inno alla Kenosi di San Paolo Apostolo nella lettere filippesi nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega in cero sulla terra e sotto terra il prostrarsi come abbiamo visto prima è un segno di adorazione i magi quando andarono da Gesù bambini i prostrati si lo adorarono non si sono messi seduti a fumare una sigaretta davanti al nostro Signore si sono prostrati e l'hanno adorato in stato di prostazione il verbo greco è proskunein quindi prostrati con la faccia a terra proprio alla orientale ok noi vediamo quello che fanno i musulmani che adesso noi quando vediamo qualcuno che si mette con la faccia a terra è musulmano ma a me stavolta mi ha imparato non poco fastidio insomma perché con il dovuto rispetto insomma per i musulmani noi dovremmo essere come dire maestri ancora di più perché noi davanti a Dio che ci abbiamo davanti agli occhi dovremmo fare anche di peggio insomma capite sto parlando in maniera iperbolica adesso non è che uno entra in chiesa perché non si possono fare questi gesti d'accordo che sarebbero fuori luogo quindi nella chiesa latina però il gesto esteriore con cui si esplica l'adorazione è il piegare le ginocchia quando si incrocia il tabernacolo si fa quella che si chiama la genuflessione non è una cosa opzionale allora il prete quando passa davanti al tabernacolo si fa la genuflessione ma quello è prete se ci passo io fa niente ma che te fa niente fai come cioè non è che l'adorazione è una cosa che la fa il prete perché l'ha detto come dire è il funzionario del tempio io invece non sono funzionario io sono un laico e quindi ho la dispensa non c'era nessuno questa dispensa cioè il piegare le ginocchia è proprio un atto interno ed esterno di professione di fede nell'eucharistia siccome lì dentro c'è Dio non c'è Pinco Pallino lì dentro c'è Dio allora se io non piego il ginocchio posso dire che ci credo veramente che di dentro c'è Dio ma come stanno gli angeli davanti alla maestà divina che vedono e che adorano basta leggere la saga scrittura libro dell'apocalisse prostrati si adorarono i vegliardi si prostrarono con la faccia e adorarono il Dio e noi che facciamo quindi omettere la genuflessione è una cosa grave non è una cosa da niente cominciamo prima con gli atteggiamenti nel tempo chiacchierare in chiesa questo è un vezzo che insomma in chiesa non si parla è un problema questo qui di culto dovuto a Dio di rispetto perché il culto capite l'adorazione la riverenza include il rispetto cioè adorare e riverire è più che rispettare allora è una cosa da gran cafoni mi si perdoni insomma il termine parlare in chiesa oltre che perché perché quella non è casa tua la chiesa è la casa di Dio in quanto casa di Dio a che serve serve a parlare con lui cioè tu lì tu entri in chiesa per metterti alla presenza del Signore cioè in chiesa o si parla con Dio o si parla di Dio o non si parla proprio d'accordo la chiesa non può diventare il luogo come dire della chiacchiera non si può non è un peccato come se io me faccio come dire me mangio me mangio una caramella faccio un piccolo peccato di gola è una cosa grave capito quella non è casa tua il vezzo che ci sta oggi che a me racconta un sacco di cose che nelle chiese terminate le cerimonie le celebrazioni succede il pandemone il finimondo come dire è un segno dei tempi cioè è un segno della fine dei tempi o sarei dire io insomma no cioè non va bene questa cosa qui e se è vero che qui sono chiamati a volte in causa anche siamo chiamati in causa noi pastori perché dobbiamo aiutare le persone a interiorizzare queste cose vero è anche che c'è un compito anche da parte del singolo fedele perché noi non possiamo per rispetto umano per quieto vivere siccome lo fanno tutti perché adesso anche su queste cose passa diciamo così all'interno del tempio lo fanno tutti quindi se non lo faccio io e poi mi guardano come una persona che so strana eccetera eccetera non si fa quella cosa lì non si fa e se qualcuno mi prenderà in giro essere perseguitati o derisi per amore di Gesù e del Vangelo ce l'ha detto lui è fonte di gioia beati voi quando vi insulteranno vi perseguiteranno e diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia d'accordo senza mancare alla carità quindi se è possibile insomma senza offendere nessuno senza andare a mettersi a fare uscire di questo genere no perché poi una persona mi parla e io come dire magari sottovoce dico senti per favore capito ci sono anche delle tecniche no una persona in chiesa viene ti parla ad altavoce per non mortificarla perché noi dobbiamo amare il Signore ma c'è anche la carità fraterna certo viene prima l'amore del Signore poi l'amore del prossimo allora una persona ti si mette a parlare ad altavoce tu gli rispondi sottovoce così già capisce senti magari usciamo un attimo se dobbiamo fare due chiacchiere cioè quindi glielo dici delicatamente e così senza rimproverarla direttamente che rimproverlo direttamente è sempre una cosa brutta però gli hai trasmesso qualcosa no quindi questa è una cosa importante cioè i peccati commessi sono sotto cioè le mancanze di le riverenze dovute al trascurare la presenza del padrone di casa cioè il tabernacolo nel senso è la prima cosa quando si passa davanti al tabernacolo non si passa di lungo come si dice d'accordo si genuflette non si chiacchiera come se fosse un mercato si parla con Dio o di Dio poi c'è un'altra cosa la terza tra le riverenze ci sono le riverenze liturgiche durante la consagrazione io mi sto leggendo adesso le rubriche anche della nuova traduzione del messale anche con gli adattamenti della conferenza episcopale stare in ginocchio rimane obbligatorio è obbligatorio non è facoltativo almeno per il tempo della consagrazione cioè da quando il serdote stende le mani al mistero della fede devo vedere bene ancora le nuove rubriche perché in quelle antiche c'era scritto che se da qualche parte si era conservata ancora la lodevole consuetudine di rimanere in ginocchio per tutta la preghiera eucaristica si poteva lasciare quindi certamente perché il più come dire è meglio del meno ma quel meno è indispensabile cioè una persona che non si inginocchia durante la consagrazione a meno che per carità non ci abbia l'artrosi o la condrite io ho sofferto di condropatia insomma ho una paura quando ho sofferto di queste cose dico ma non è che non mi posso inginocchia più cioè d'accordo quindi se una persona sta male ha problemi fisici o è anziano non ce la fa è evidente che è una necessità ma una persona che potrebbe perché non ti inginocchi ti vergogni ma noi non ci dobbiamo vergognare di adorare il nostro Signore noi dobbiamo fare a gara nell'umiliarci davanti al Signore pensiamo a quello che fece Davide re Davide altro episodio biblico quando tornarono portando l'arca dell'alleanza che Davide si era messo rimanendo coperto soltanto con l'Ephod a saltare a danzare davanti all'arca dell'alleanza e c'era una donna Davide insomma era un grande uomo insomma quindi era un re era anche come dire un grande uomo inteso in senso virile no? ma lui si è umiliato si è mortificato davanti al Signore e c'è una donna si chiamava Michal mi sembra se non ricordo male che gli dice ah bella figura che ha fatto il re che si è messo a saltare a danzare come farebbe una persona da nulla e Davide gli ha risposto dice che è? siccome tu hai detto così la prossima volta faccio peggio capito cioè noi non 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 ci sta niente da vergognarsi perché si deve vergognare chi rifiuta di rendere a Dio il culto che gli ha dovuto noi siamo fieri di farlo d'accordo? ecco non parliamo degli esempi dei grandi santi tipo San Luigi IX re di Francia insomma quando gli portavano l'inginocchiatoio regale dice leva leva io posso tranquillamente stare inginocchiato per terra che davanti a me c'è il mio Dio che è morto in croce figurate se a me mi serve l'inginocchiatoio regale imbottito no? quindi non si chiede sempre tanto zelo insomma però ecco questa è un'altra cosa le cose liturgiche che si fa la comunione durante la Santa Messa questo è un mio light motive insomma non mancherò di sgolarmi fino a quando campo se il Signore mi aiuta cioè una persona che fa la comunione e esce subito dalla Chiesa dopo aver ricevuto la benedizione si metta in testa che commette una differenza grave io questo l'ho detto lo ripeto non mi imporce mi prendo la responsabilità di quello che dico quindi sono pronto a risponderne a difenderlo dinanzi a chiunque una cosa di questo genere cioè tu c'hai Gesù Cristo nel cuore non è uno scherzo non è un gioco la presenza reale di Gesù è legata alla sussistenza delle specie le specie hanno dei tempi minimali per essere assimilati dal nostro stomaco siamo proprio insomma abbastanza chiari cioè se tu esci dopo aver fatto la comunione ti porti Gesù ha spasso in giro altro che riverenza ad orazione dovuta cioè se tu figlio mio ti fai la comunione c'è il tuo Dio nel cuore non sai manco che dirgli allora prendi il rosario e fatti la corona del rosario d'accordo dicendo al Signore guarda sono talmente un poveraccio sono talmente freddo sono talmente arido e perdonami non so buono manca ditte a e allora supplisco con la preghiera che tu mi hai insegnato e chiedo aiuto alla Madonna ti insegniamo a di qualcosa ma non te ne puoi andare in giro capite adesso parleremo nelle prossime puntate anche della della santa comunione adesso non non in questa anche con tutte le baraonde che sono successe adesso con le con le pandemie eccetera eccetera no però questa è una considerazione mia personale una considerazione mia personale quindi su questo ci ci tengo a a dire che diciamo propongo una pista di riflessione è il caso di fare una comunione proprio scellerata cioè ammesso che una persona stia in grazia di Dio perché lo vedremo quando tratteremo di questo tema ma se tu ti fai la comunione vai ti fai l'ostia cioè un federe si deve fare questa domanda dopo che hai preso l'ostia che fai? cioè noi dobbiamo imparare a vivere sotto gli occhi dell'altissimo cioè che gli dice Gesù? cioè Gesù sta dentro di te come una persona viva non sta lì che fai tu? stai a pensare agli affari tuoi c'era la testa per aria stai guardando l'orologio che devi uscire io adesso sto dicendo le cose brutte stai guardando l'orologio che devi uscire dalla chiesa che devi andare a fare che hai? che pensi? fatta la comunione se uno avesse insomma un minimo cioè il mondo si dovrebbe fermare capito? ho raccontato sempre che una volta San Giovanni Paolo II finisce la messa sta a fare ringraziamento fuori c'era il presidente degli Stati Uniti che lo stava aspettando e lui quando faceva ringraziamento non è che metteva l'orologio cioè ringraziamento se fa ringraziamento e basta d'accordo? a un certo punto insomma c'era qualcuno che scalpitava perché c'era il presidente degli Stati Uniti che stava un po' agitando no? e uno trova coraggio cosa non avrebbe mai dovuto fare d'accordo? e va a fare toc toc al Papa dicendo scusi santità se potesse accelerare un po' che c'è il presidente degli Stati Uniti il Papa ha risposto il presidente degli Stati Uniti può tranquillamente aspettare perché io sto al cospetto del padrone del cielo e della terra che è un po' più grande il presidente degli Stati Uniti più grande pure di me d'accordo? quindi se aspetta un po' non succede niente non succede capite? se va a fuoco la casa per carità uno si è ma cioè quello è un tempo non si deve toccare questa cosa bisogna impararla chi non l'ha ancora imparata la deve imparare cioè quello lo dico proprio col cuore la deve non è che io non sono nessuno per andare a imporre obblighi in giro a destra e a sinistra ma lo esorto vivamente a pensarci bene d'accordo? perché il nostro Signore io sono sicuro che chiederà ai Suoi figli e gli dico ma ma quando io stavo dentro al tuo cuore ma che ho avuto da te? cioè non dico offrire a Dio i sacrifici cioè mai hai detto una parola mai hai detto una parola gentile mai adorato mai amato mai lodato mai benedetto mai ringraziato e mi hai parlato delle tue cose e mai che ne so poi ognuno cioè però non possiamo non si può cioè sono peccati da confessare questi qua come per quanto mi riguarda cioè non so ci ho fatto la comunione senza essermi confessato questa è una cosa gravissima d'accordo? adesso concluderemo con un accenno ai sacrilegi ma anche ho fatto la comunione buonanotte non si può è una differenza grave capite? grave cioè pensiamo a noi cioè capite? se qualcuno entra dentro casa nostra quasi quasi non dice manco buongiorno no e pia che ne so se prende qualche cosa che gli serve e poi se ne esce senza manco di buongiorno cioè noi a volte che succede? c'è qualche rivelazione privata mi ricordo una volta Alessi una cosa che mi proprio trafisse il cuore non mi ricordo dove Gesù Gesù che diceva solo davanti a me è tutto lecito cioè cafonate che gli uomini non farebbero nemmeno dinanzi alla persona più umile insomma perché sarebbero proprio mancanze proprio grezze davanti a me è tutto lecito ah con me se si può consere qualunque cosa io ci rimasi quando lessi questa cosa dico ma tu guarda un po' perché non siamo abituati a interfacciarsi con Gesù come una persona viva una persona viva divina presente questo bisogna impararlo questo qui questo bisogna impararlo assolutamente allora quindi questa è tutta la tipologia delle irriverenze attenzione le ghiacchiere in chiesa le mancanze di genuflessioni davanti al tabernaco durante la messa le mancanze di rispetto e di ringraziamento con fronte dell'Eucharistia quando Gesù è esposto solennemente sull'altare ci sono altre due piccole delicatezze da osservare due primo quando si sta davanti all'Eucharistia non si piega solo il ginocchio destro perché lì Gesù è esposto si piegano tutte e due le ginocchie si fa l'inchino profondo con la testa c'è la doppia genuflessione quindi con entrambe le ginocchie con l'inchino profondo e attenzione cioè a Gesù esposto non si danno mai le spalle per nessun motivo che significa che se io devo uscire dalla chiesa e c'è il santissimo sacramento esposto io non posso genuflettere mi giro e me ne esco e c'ho il santissimo alle mie spalle non si può fare quindi me ne vado in una vata laterale se è possibile e se no devo fare il passo del gambero capite cioè non posso dare le spalle addomini di Dio esposto cioè capite noi ste cose dobbiamo assolutamente recuperarle non scarichiamo sempre io lo so perché mi parlano un sacco di persone che cominciano a dire che il prete non gliela ha insegnato e tante cose del stesso vabbè cioè vabbè adesso stasera l'hai sentito d'accordo qualcuno te la dette quindi mettila in pratica se ci credi d'accordo perché altrimenti non stiamo sempre a perché quello che io ho imparato è che se qualcuno desidera ricevere e conoscere la verità il signore gliela fa conoscere adesso usa pure ste diavolerie insomma dei 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 come si chiama dei dei social dei mezzi di comunicazione sociale che so diavolerie però se uno le usa bene possono anche diventare cose utili quindi stiamo qui per questo insomma per cercare di condividere un pochino di sana dottrina cattolica è chiaro che un altro dovere che noi abbiamo ed è inizio nel primo comandamento nel dovere di rendere a Dio il culto che gli è dovuto è che i sacramenti noi li dobbiamo ricevere non sono messi come dire lì tanto per starci quindi vanno ricevuti colgo l'occasione sto intravedendo qualche commento c'è un ulteriore come dire modalità di approccio al luogo sacro oggi che è uno i benedetti telefonini diciamo benedetti in chiesa devono stare spenti e se Dio non voglia suona il telefonino questo cioè io sto in difficoltà perché capite poi quando uno è parroco e vede delle cose sotto sotto gli occhi diventa molto antipatico come dire andare a dire a una persona ma insomma no il telefonino si deve spegne e se Dio non voglia rimasto acceso lo si deve prendere subito si spegne subito non è che il telefonino te esce e te ne va e risponde magari durante la messa cioè noi facciamo delle cose che uno non ci pensa però è una cosa fatta bene cioè il telefonino lì si spegne in chiesa l'abbigliamento che si deve avere in chiesa specialmente d'estate cioè si vedono delle cose veramente anche qui allucinanti d'accordo allucinanti cioè avremo modo sicuramente se vanno avanti questo ciclo di catechesi di spiegare bene alcune cose che riguardano anche il vestire maschile e femminile ma insomma un minimo di buon senso penso che scambiare la chiesa con una spiaggia insomma no o andare proprio in maniera proprio improponibile e questo vale pure per gli uomini però perché non è soltanto per le donne cioè io ogni tanto ho dovuto cercare di far capire cioè c'è un abbigliamento che uno deve deve cioè tu ti ci presenteresti davanti al papa in bermuda e in fradito pure del senomo non credo e se te presenti davanti al papa in bermuda e in fradito sei in capone d'accordo cioè non credo che sia offensivo non te ne rendi conto forse magari hai un'estrazione che non ti consente di interiorizzare certe cose ma oggettivamente sei in capone cioè a che ci vuole a mettersi un paio dei pantaloni un paio dei scarpe non dico uno deve andare col tight o con lo smoking o peggio ancora con le vesti di lusso che non si mettono né in chiesa né fuori dalla chiesa no quindi però un minimo un minimo ci deve essere insomma no un minimo di decoro da parte di tutti cioè la chiesa è un luogo sacro l'ustra è la presenza di Dio cioè per noi esseri umani cioè non è indifferente anche l'esteriore perché noi non siamo puri spiriti vestiti come dire di luce non lo so come saranno vestiti i puri spiriti noi abbiamo gli abiti nostri quindi sono tutte molte cose che vanno i sacramenti vanno anzitutto ricevuti e vanno ricevuti bene questo poi è un capitolo che apriremo il sacramento della penitenza il sacramento dell'eucaristia la messa cioè rendere a Dio il culto che gli ha dovuto per un battezzato significa anzitutto prendere e celebrare bene i regali grandi che Dio gli ha fatto non andare a messa la domenica che fa parte del terzo comandamento come dire per certi aspetti è già contenuto nel primo perché un regalo tanto grande come quello di un sacramento non può e non deve essere come dire del tutto ignorato da un fedele pensiamo le persone che stanno dieci anni quindici anni senza confessarsi persone che tranquillamente possono stare mesi interi senza affacciarsi in chiesa senza andare a messa cose di questo genere ma è una trascuratezza è una come dire assolutamente negligenza grossolana insomma grave con i sacramenti sappiamo che c'è il minimo e il massimo c'è la legge della chiesa che dice la confessione ti confesse confesserai i tuoi peccati al signore almeno una volta l'anno e ti comunicherai almeno a Pasqua il santo curato d'Ars quando diceva queste cose che le diceva anche allora perché bisogna dirle c'è comunque la legge della chiesa le diceva con le lacrime agli occhi dice ma ti pare ma cioè l'eucaristia la comunione è la cosa più grande più bella che esiste in tutto quanto l'universo cioè io devo mettere a fare la predica che devi fatta la comunione almeno una volta all'anno io morirei se non mi facessi la comunione tutti i giorni io condivido insomma questo questo pensiero non so come come vanno le persone a campare senza messa e senza comunione no però se uno sta in quel minimo comunque sta dentro la legge della chiesa no e ecco quindi però ci sono modi e modi la comunione si può fare a livello settimanale si può fare a livello quotidiano la confessione si può fare mensile si può fare ogni otto giorni d'accordo poi apriremo una parentesi probabilmente nella prossima puntata su come si vivono bene i sacramenti perché i sacramenti sono dei regali da parte dell'altissimo attenzione ma sono dei regali che dobbiamo noi ben accogliere e ben ricevere perché sono doni grandi del cielo e ad essi occorre adeguatamente disporsi altrimenti non c'è possibilità di trarre tesoro da essi bene penso che sia il caso di aggiornarci di chiudere speriamo di aver trasmesso qualcosa insomma per quanto riguarda in questa puntata di ciò che configura l'ampio peccato dell'irriverenza nella forma del negare a dio il culto interiore ed esteriore che gli è dovuto e che il signore e la madonna ci aiutino a interiorizzare queste cose è importantissimo quando si ascoltano queste sollecitazioni che noi le prendiamo ci torniamo e ci preghiamo perché la formazione morale di una coscienza d'accordo richiede la sua partecipazione attiva cioè tu devi fare tuo un certo valore motivartelo esserne convinto averlo radicato nel cuore quindi vi prego insomma ecco perché non dobbiamo semplicemente stare alle cose che ci vengono dette che hanno comunque la loro importanza ma dobbiamo sempre fare in modo che quello che ci viene detto diventi nostro ricordiamo la fine del Vangelo della Samaritana la Samaritana la Samaritana va parla a tutti di Gesù e dopo loro gli dicono i Samaritani guarda che non è che la tua parola che noi crediamo ma noi crediamo perché abbiamo visto noi stessi chi è colui che è il salvatore del mondo ok bene detto questo ci vediamo la prossima puntata Dio vi benedica la Madonna vi protegga e Ave Maria Dio vi benedica